Amici del canale, da oggi anche Lino Juventus potrà darti la possibilità di abbonarti al canale io non ho voluto fare i vari settori 99 centesimi, 2,90 euro, 3 euro, 5 euro, quelli che sono io ho voluto fare una cosa unica per tutti allora vi dico subito che non mi interessa che voi lo dobbiate fare è un'opzione che youtube mi ha dato e io l'ho messa a me puoi abbonarti al mio canale a 4,99 euro al mese e avrai diritto innanzitutto nella chat i messaggi degli abbonati saranno quelli messi in evidenza e avranno una risposta quindi avranno precedenza sugli altri perché mi sembra che sia diciamo una cosa giusta e avrai la possibilità io creerò una chat whatsapp per soli abbonati quindi chi si abbonerà al mio canale ci scambieremo il numero e creeremo una chat per soli abbonati e parleremo della nostra amata di windows ragazzi sono 4 euro e 99 euro al mese sono diciamo 5 euro al mese chi fa piacere mi fa piacere ma non per l'abbonamento per la 5 euro in sé per sé ma proprio per la questione per poi poter creare un gruppo whatsapp magari anche cambiarci i numeri e possiamo sentirci diciamo in privato tutti i giorni e diciamo che oltre youtube abbiamo anche la possibilità di avere una diciamo un rapporto un dialogo giornaliero quindi ragazzi ci tengo solo a dirvi che da oggi se volete potete abbonarvi al canale Lino Juventus al prezzo di 4 euro e 99 euro al mese chi lo fa verrà ringraziato ovviamente poi verrà ringraziato nei miei video non paro nome e cognome perché mi sembra giusto e diciamo avrà priorità sugli altri utenti che comunque io me li tengo sempre ben stretti perché grazie a voi io sono arrivato diciamo a questi 4200 iscritti che ripeto youtube io lo uso come voi vedete io dico quello che penso posso risultare antipatico a tratti però io dico quello che penso non mi interessa che io ho una videocamera di fronte a me che so che questo video potrà andare a migliaia di persone però io sono uno che parla e dice quello che dice senza peli sulla lingua quindi me li tengo stretti i miei utenti perché ormai per me sono una famiglia però mi sembra giusto dare poi una priorità speciale agli abbonati al canale detto questo ragazzi abbiamo una buona giornata ci vediamo stasera nel post partita con la speranza che possiamo raccontare una bella vittoria un abbraccio e fino alla fine contro tutto e tutti